L'Invitational Shipping Pro-Am è una delle gare più prestigiose nel calendario del Golf Club di Rapallo. Sul green rapaldese, oltre a 34 professionisti di indiscussa capacità, sono scesi imprenditore, manager, nonché volti noti del mondo dello sport. L'iniziativa è partita nel 2005 dall'idea di un gruppo di armatori per finanziare e sostenere i progetti della ricerca della Fondazione Malattie Renali del Bambino, che proprio quest'anno festeggia 40 anni di attività. La Fondazione in questo tempo ha aiutato economicamente più di 1500 famiglie di bambini ricoverati nel reparto di nefrologia, dialesi e trappianto dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e ha permesso di acquistare apparecchiature diagnostiche e terapeutiche all'avanguardia. Sui prati estesi del Golf Club di Rapallo riluce il verde della speranza per i piccoli malati. Indubbiamente una manifestazione è questa che ha delle finalità molto importanti perché ci sono delle beneficenze che da anni ormai rendono la simbiosi Golf e Gaslini in maniera decisamente molto importante. Il nostro circolo è un circolo golfistico ma per tanti aspetti abbiamo sempre un occhio di riguardo per tutto quello che è un interesse nei confronti della beneficenza. Ben che il circolo golf e tennis sia una peculiarità di Rapallo, l'obiettivo è farlo diventare un polo sportivo e non solo per l'intero comprensorio del Tigulio. Le esigenze nuove e il nostro pensiero è proprio quello di spingere affinché questo parco meraviglioso venga apprezzato soprattutto dai limitropi, dai residenti. Io penso alla Sestri Levante a Portofino che venirci a trovare, venire a provare sia il golf che il tennis sia una cosa decisamente piacevole. Per cui senz'altro noi punteremo molto nell'avvicinare la popolazione più vicina a noi.